ok io non è di quanto ho bestemmiato, ho bestemmiato io, non vedi che era questo problema per shock che me l'aveva fatta ah certo, guarda, questo è il mio vado buonsoir buonsoir che fai di me? no no, io credo che ci stiamo tranquillando oh, stai tranquillando ho deciso di sparare, i ragazzi vabbè ok, vabbè facendo di vedere che cazzo siamo voglio prendere un po' di cibo che è tutto quello che potevo quasi quasi preso 1 preso 2 vai 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 aspettavali sono ancora qualche colpo di metterlo un attimo ancora in difficoltà cioè, va bene, voglio anche avere dei buchi per farli stare un attimo distratti ok, adesso vado eh, merda, non tiro, mi vado con la spada tanto se riesco tanto se riesco ma uno è ucciso non è ucciso non è ucciso non è ucciso non è ucciso anche me ti avevo portati non è ucciso sta caressando sta lanciando per il giocamento rongone il cannone bravo, un colpo ma lì spero ok bravo è ucciso beh no abbiamo bastato i due hanno l'acqua alta qui abbassando l'ancora aspettavate stavamo pazzo stavamo pazzo tu non avevamo attacchi ora ti ha saltato buon lavoro tu ha ruinato la mia pace e quindi abbiamo ruinato la mia pace Bene, abbiamo una pantera dove andare. Manu se ne ha aperto brighe? Manu se ne è andato. Manu è uscito. Perché è uscito?